Abbiamo istituito una nuova figura che è quella del general manager, che è indubbiamente una figura importante, una figura cardina, nella persona di Luca Pagliuso. Con queste parole il presidente Giuseppe Carnevale ha annunciato l'ingresso ufficiale di Pagliuso in società all'indomani dell'ufficializzazione del passaggio di quote avvenuto ieri dal notaio. Chiare le sue intenzioni di rinnovare l'assetto organizzativo. C'è ovviamente la mia mano nel modo di vedere in maniera diversa con un 73% tutto il blocco senza calcio da dove si va il ritiro dalle esigenze mediche alle esigenze societarie. Qualcosa di mio ci sarà. Utilizzo delle Virginia non solo per il ritiro ma anche visto come centro sportivo su cui innestare un nuovo percorso tra le intenzioni del presidente. E passaggio subito del testimone da Pino Chianello al nuovo amministratore delegato Francesco Iannucci appena cooptato. I progetti di questa società non sono cambiati, sono quelli di sempre, cioè centrare questi benedetti playoff e magari vincerli. Questa è la mia più grande speranza. Io non trovo niente di nuovo e non lascio niente di nuovo perché io sono in questa società da una vita. Quindi è solo una prosecuzione del mio lavoro con delle responsabilità in più. Cercheremo di far quadrare ancora meglio i conti. Il pensiero fisso di tutti è comunque sempre lì, l'obiettivo principale. La gente chiede la Serie B. E questo noi vorremmo dare per la soddisfazione dei nostri tifosi, per la soddisfazione della nostra gente e per un po' di soddisfazione anche per noi perché ci teniamo anche noi a questo. Non è detta l'ultima parola, messo da parte il passato, tirata una linea, forse qualcuno è rimasto con la testa tra le nuvole. Ma la società non molla. Hanno avuto un po' la testa tra le nuvole ma noi siamo coriaci. Stiamo ancora ad un punto della zona playoff e quindi fin quando la matematica non ci condannerà saremo sempre attaccati a questa zona per vedere di raggiungere un obiettivo che indubbiamente lo neghiamo anche a noi ma che indubbiamente lo sogniamo. Grazie. Grazie. Grazie.